L'Erasmus non è solo studio e divertimento, ma anche sport e scoperta del territorio. In uno stabilimento balneare di Silvi arrivano ragazzi da università di tutta Europa e non solo, grazie a un progetto che vede la collaborazione tra la scuola di SAP e la rete Erasmus di Chieti Pescara. Siamo riusciti a portare quasi 50 ragazzi, studenti Erasmus da Pescara, sono venuti con il treno e li abbiamo coinvolti in queste attività per lo più sportive, quindi come vedete alle mie spalle stanno praticando un po' di stand-up paddle, SUP, l'acronimo, un pochettino di approccio anche al surf, lì intanto facciamo qualche torneo di beach volley, bocce, diciamo che l'obiettivo è quello di far scoprire questo territorio, in particolare Silvi Marina, e di far vedere che anche questo periodo, maggio, che noi consideriamo bassa stagione, è perfetto per passare del bel tempo al mare, divertendosi e fare uno scambio culturale con la località, in questo caso Silvi Marina. Praticamente sono studenti che studiano, fanno un gemellaggio da loro università qua in Italia e noi praticamente gli facciamo in modo che loro si inseriscano in questa società, nell'ambito italiano, quello che è, in tanti tipi, a livello organizzativo, burocratico anche perché c'è bisogno di fare tantissimi documenti per restare qua come il permesso di soggiorno e varie cose, e noi li aiutiamo proprio su questo punto, gli diamo un sostegno, diciamo. E in più per gli studenti italiani che vanno a fare Erasmus a altri parti, pure diamo un po' delle specifiche cose che debbano fare all'estero quando andranno. Grazie. Grazie. Grazie.